In questi giorni è stata approvata una mozione che ho presentato in Consiglio regionale, che è stata sottoscritta anche dai consiglieri del Partito Democratico, ma alla fine è stata votata dall'intero Consiglio, che chiede un maggior coinvolgimento degli infermieri e degli assistenti sanitari per le vaccinazioni. Noi sappiamo che nelle prossime settimane arriveranno migliaia e migliaia di vaccini e sarà importante riuscire poi a utilizzarli. Per poterlo fare sicuramente dovranno essere aumentati i punti per la vaccinazione, ma soprattutto dovranno essere aumentati i professionisti che sono in grado di fare i vaccini. È per questo che abbiamo chiesto di poter consentire agli infermieri e agli assistenti sanitari di poter lavorare anche al di fuori del proprio periodo di lavoro, cioè lavorando quando non lavorano per il servizio sanitario regionale, facendo vere proprie prestazioni professionali. Questo appunto gli consentirebbe, come è già stato fatto per i medici, di poter continuare a dare il contributo. Infermieri e assistenti sanitari hanno un rapporto di esclusività, quindi è necessaria una deroga. Da questo punto di vista abbiamo chiesto quindi alla regione di attivare subito un incontro con i vari sindacati per definire tempi, modalità e soprattutto quelli che sono i costi che sono necessari per poter attivare quanto prima, cioè già dalle prossime settimane, questo tipo di coinvolgimento.